Ripartiamo da dove ci eravamo lasciati per finire di commentare le pagine interne del Tirreno di Lucca, sempre sulla stessa pagina del Museo della Liberazione, c'è un importante approfondimento. Ieri sono stati pubblicati i dati delle iscrizioni nelle scuole superiori della provincia, ebbene aumentano gli iscritti nei licei e anche alliti fermi. Ecco i dati relativi agli istituti superiori, sono 3098 i nuovi studenti per il prossimo anno scolastico e poi c'è a fianco un riquadro con la tabella numero per numero di tutte le scuole lucchesi con chi ha aumentato gli iscritti e chi li ha invece persi. Una tabella interessante soprattutto per chi in questi giorni si trova a dover scegliere nuove scuole per i propri ragazzi dopo le medie. Andiamo sulla Piana di Lucca e torniamo alla Nazione, le pagine interne della cronaca della Piana di Lucca che aprono con una notizia politica di Saverio Bargagna. Giallo Pisani non è nella lista dei candidati, a 24 ore dall'ufficialità manca il suo nome nelle liste del PD, anche pizza da forfè. Allora che è successo? Silvana Pisani ha partecipato con Luca Menezini, Eugenio Baronti ed altri alle primarie del PD per candidarsi a sindaco a Capannoli, ve lo ricorderete, era l'ex presidente del Consiglio Comunale e insieme al PD aveva avuto forti dissapori anche con il sindaco Giorgio Del Ghingaro. Ebbene dopo aver partecipato alle primarie però sembra che Silvana Pisani non sia nella lista delle candidature per i consiglieri comunali del PD. Saverio Bargagna nell'interno poi spiega che la lista avrebbe dovuto essere ufficializzata già questa mattina, quindi dopo un incontro che c'è stato ieri sera, invece se ne riparlerà questa sera in un'altra importante riunione del PD. Si parla anche di un possibile forfè di Lara Pizza che ormai da diversi anni è assessore nella giunta del Ghingaro e quindi un PD che probabilmente si troverà a dover fare i conti con assenze importanti anche nelle proprie liste. Ricordiamo che anche a Capannoli si voterà il 25 maggio, dall'altra parte c'è Maria Pia Bertolucci che sta raccogliendo tutte le forze del centro-destra. Per Menesini che è il candidato del centro-sinistra si tratterebbe di una perdita importante perché sapete che sono necessari sì i voti che il sindaco prende da solo ma sono anche importantissimi i dati che vengono raccolti con le liste, quindi più ci sono personaggi conosciuti che hanno un loro seguito, che hanno alle spalle anche battaglie politiche importanti, ricordiamo anche quella riguardante il nuovo polo di stoccaggio dei rifiuti da parte della Silvana Pisani, sono perdite per i voti dei sostenitori che avrebbe potuto raccogliere proprio Silvana Pisani. E adesso sempre rimanendo alla nazione andiamo invece in Mediavalle e Garfagnana, c'è un importante approfondimento dedicato alle cave di marmo. La riforma del settore lapideo passa dal rilancio del lavoro, sarà infatti aperto un tavolo di confronto, c'è un incontro in regione con le rappresentanze sindacali, sapete che ci sono ancora sul tappeto tanti problemi, uno dei quali è anche quello della possibilità che alcune delle cave che insistono sul nostro territorio finiscano nell'area dedicata dalla regione a Parco e quindi dove non ci possono essere attività estrative con possibili ricadute molto pericolose anche su tutto il tessuto connettivo dei lavoratori. Tre obiettivi comuni arriveranno, se ne parleranno nell'incontro, tra questi un focus sulla crescita occupazionale e sulla tutela ambientale. Quindi appuntamento in regione con le rappresentanze sindacali e chi si occupa del settore lapide, un settore che rischia veramente la crisi. Sempre per quanto riguarda Mediavalle e Galfagnana andiamo invece sulle pagine del Tirreno, perché la valle, la valle del Serchio, celebra chi ha fatto la sua storia. Torna il premio lavoro, riconoscimenti a personaggi che hanno fatto crescere cultura ed economia del territorio. Ci sono nomi importantissimi, c'è un approfondimento di Luca Meconi da Borgo a Mozzano, proprio per l'Unione dei Comuni della Mediavalle che si occupa di questi importantissimi premi. Detto questo ci spostiamo sulle pagine nazionali, perché vi faccio vedere subito una pagina interna del Tirreno con una notizia che poi ritroveremo anche sui quotidiani, sulle prime pagine dei quotidiani che si occupano soprattutto della nostra regione, della Toscana. Perché ieri c'è stata una storica sentenza del Tribunale di Grosseto che ha reso valide le nozze gay celebrate altrove anche in Italia. Si tratta di una sentenza storica. In pratica a Grosseto il Tribunale ha ordinato al Comune di registrare un matrimonio celebrato negli Stati Uniti. Un matrimonio celebrato alcuni anni fa tra un imprenditore maremmano e un giornalista milanese, celebrato a New York. Il Tribunale ha imposto al Comune di riconoscere l'unione civile tra queste due persone dello stesso sesto e si tratta di una sentenza storica. Non è detto che ci si fermi qua, è possibile che vengano fatte delle impugnazioni. Il Comune comunque annuncia tramite il Sindaco che probabilmente non si opporrà a questa decisione. Si tratta di una sentenza storica che ritroviamo anche sulla prima pagina del Tirreno. Si tratta in pratica della notizia di apertura. È il Tirreno di Livorno che dice che le nozze gay valide in Italia si sposarono a New York. Il Tribunale di Grosseto impone la registrazione. E quindi una notizia davvero storica. Parliamo anche di politica perché si parla di Job Act e del lavoro che sta facendo il primo ministro Renzi con il DEF. L'Europa e il Fondo Monetario Internazionale promuovono il piano di Renzi. C'è anche un'apertura da parte della CGL. Inoltre dal primo maggio ai giovani un'offerta sicura di lavoro nelle pagine interne. Tutte le spiegazioni relative a queste notizie. Riguardo alla cronaca del Tirreno. Siamo alla prima pagina della cronaca di Viareggio. C'è una notizia che è propria del Tirreno. Genitori possessivi vengono multati a Viareggio. avevano cercato di impedire le scelte della figlia. In particolare di impedire una convivenza. E quindi questo è il titolo del Tirreno. Vediamo invece come ha aperto il quotidiano nazionale. La nazione oggi. Il titolo di apertura è dedicato ancora alla legge eterologa perché la Cassazione ha tolto il divieto di fecondazione eterologa della legge 40. In pratica potranno essere fecondati nella fecondazione assistita anche ovuli non propri della persona che se li farà impiantare e soprattutto anche con spermatozoi non del genitore che si presenta in ospedale. C'è quindi una svolta sui figli in provetta. Questo è il titolo della nazione. La consulta dice sì alla fecondazione con donatore esterno per coppie sterili. Intanto a Grosseto il Comune riconoscete quelle nozze gay. Ne abbiamo parlato anche prima. Il titolo invece della foto di centropagina è la richiesta di condanno al carcere a vita per Pierpaolo Brega Massone. Si tratta del chirurgo killer di Milano. Vi ricorderete fra le accuse per le quali era già stato condannato a 15 anni. in clinica aveva affini economici per ricevere dei rimborsi dalla sanità pubblica operato anche persone in fin di vita con operazioni non necessarie. Siamo alla prima pagina della Repubblica con l'approfondimento dedicato ancora alla fecondazione assistita. Il titolo di apertura fecondazione assistita fuori dalla coppia è una svolta storica. Dalla consulta il via libera al donatore esterno. Anche in questo caso nel sottotitolo la Repubblica sceglie di ricordare anche se fra le due cose non ci sono legami se non empirici che a Grosseto il Tribunale ha imposto al Comune la trascrizione delle nozze gay di due uomini che si erano sposati a New York. Ci fermiamo per un breve break la pubblicità e poi torniamo ancora alle prime pagine dei quotidiani nazionali per capire un po' come vengono affrontati i temi della politica nazionale e internazionale. Tra poco.